ciao a tutti da me e da pomettino molto bene allora oggi siamo qui con una novità almeno per me una sceccherina di sirena una mermaids mermaids un po più difficile da dire no è la mia prima sirena ok guardate che sceccherina ed è pure shake ma questa la vediamo dopo per chi mi segue dall'alba dei tempi sa la mia piccola ossessione per di scegliere però faccio la vita di niente allora lei chi è crista bella molto molto bene ed è bellissima ed è bellissima ok sto mutando chi ha molte accessorini qua dietro che non si vedono nella scatola si vede tutta lei ok poi c'è un giubbino una borsa queste cose quale vediamo dopo ma adesso ci concentriamo sulla scatola è la mia prima bambola in questo modo quindi top altra cosa ho notato che quando devo registrare delle bambole con la carnagione scura che magari hanno anche dei pezzi un po più chiari le mie luci tendono ad impazzire quindi se vedete delle luci un po pazze fate finta di niente allora detto questo qua vediamo che hai glitter ci sono le paillette i glitter e poi in teoria col freddo si dovrebbe cambiare il colore della coda color change winter waves ok e qua poi c'è il suo disegnino qui è molto più effetto ghiaccio invece qua è molto più naturale molto più chiccherina poi adesso vediamo dietro allora dietro è tutto molto così ghiacciolosa la situazione ci sono un sacco di sue fotografie molto protagonista la signorina molto bene ma è giusto perché il suo momento il suo protagonismo e poi qua penso che ci sono le altre della sua serie io per il momento ho solamente lei molto molto bene ma vorrei riuscire ad averle tutte perché mi piacciono molto perfetto allora quella invece dalla prima serie non hanno questa è dalla seconda serie hanno la prima serie hanno la coda senza glitter house ok ok qua comunque c'è una m e qua si vede lei che è inquadratura professional adesso io devo tirare fuori questa sciccherina dalla scatola e cominciamo a vedere tutto ok 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 allora ho tirato fuori tutto un sacco di plastichini però top e adesso vediamo tutto quello che arriva con lei e poi passiamo a lei a tutte le cose a tutte le cose che poi si dovranno fare su di lei allora voglio partire dallo stand che è incredibilmente alto quindi mi chiedo ma è nell'inquadratura riuscirò a farcela stare tutta io non ho la propria idea comunque è così con la m tutto glitter house lungo 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 veramente lunghissimo e sotto ci sono tre agganci e sotto ci sono tre agganci poi riuscirò a capire una S e una L e M questa roba qui poi capirò quali metterli non so forse perché un per uno per il giubb non lo so vabbè lo mettiamo qui poi allora tanto che qui vicino a lei arriva questa borsettina viola con due robini no forse queste sono di bellezza una piuma e tutta questa robina qua argento si apre o no? tu mi fai sembrare che si apre ma invece no? no non mi sembra non lo sembra ma non sembra vabbè va bene così tanto la metterò via come poi metterò via tutte le robine che so per farvi vedere ovvero abbiamo una utilissima tazza nera indispensabile ok poi uno smalto oh che carino queste cose sono fatte proprio per perderle capito? quindi top quella M è molto carino fatto molto molto bene poi abbiamo cos'è sta roba? vediamo un po' se tiro cos'è? un mascara che è chiccherino pensavo che dentro ci fosse il nero ma non mi sembra no fucsia molto carino poi abbiamo un pennellino oh c'è anche la scrittina merma ok col pennell house bianco il coso per tenerlo in mano poi cos'è questa cosa? cosa dovresti rappresentare? un cellulare? un computerino? mandiamo un messaggino a Pomettino giusto Pomettino Pomettino non ha il cellulare quindi non può rispondere molto bene carino comunque cosa c'è da su? non ho mica guardato io niente una roba e poi finiamo con questo fatemi capire ok c'è lo specchio quindi lo copro prima che si vedono cose strane ovvero me e poi ci sono tutti i suoi trucchetti comunque qua lo specchio si vede vedete? molto bene argento e fucsia con le scritte nere molto chiccheline queste cose qua le metterò via tutte prima di perderle poi arriva questo questo questa enciclopedia penso che spiega bene tutto andiamo a cercare l'italiano sempre che ci sia un momento di rumoreggio ma c'è l'italiano? è sempre più grosso è sempre più grosso è sempre più grosso più ma porca c'è l'italiano non vedo mica l'italiano eccolo l'ho trovato devo sempre fare questi rumoreggi allora eccolo qua qua ci dice immergi la pinna nell'acqua fredda dopo lo facciamo scuoti la coda per mescolare glitter dopo lo facciamo rimozione dalle mani assemblaggio dello stand e le informazioni importanti che non ci interessano molto bene quindi tutta questa fatica per due cavolate che c'è scritto sulla scatola vabbè però meglio che ci siano e poi abbiamo questo giubbettino molto molto carino che cos'è tipo olografico? che cavolo ne so un sacco di plastichini da levare e lo apriamo c'è un bottone ma che top due bottoni ma che top e un ovviamente un plastichino ma non c'è ho fatto il bottone perché non farlo con la sequina cioè ci sta ci sta qua c'è il doppio corpo davanti e indietro che sciuterino e poi qua abbiamo il giubbino dentro molto semplice fuori molto carino mi piace il dettaglio dei bottoni e mi piace molto anche questo cappuccio qua enorme qua i pomponi molto molto carino molto molto bene ora 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 lo appoggiamo qui perché è il turno della donzella allora devo dire che è molto molto pesante ovviamente penso per comunque tutta l'acqua tutto il glitterame da che cosa partiamo? io non ho la più pari idea cerchiamo di capire soprattutto se ci sta nell'inquadratura prima di vederla io tiro su così e la bambola si dovrebbe mettere così sullo stand non riusciremo mai a vederla non fa niente vediamola un po' così però dopo comunque la metto allora partiamo dalla pinna bianca e lilla così un po' molto scintillante bellissima poi andiamo sul pezzo forte di questa bambola che penso sia proprio questa coda shake allora parte dal bianco con tutte le cinturine pure sulle chiappette mi piace molto questo dettaglio qua oro perché è oro e poi adesso vi faccio vedere la coda un po' così un po' così un po' così sciccherina facciamo questa cosa sì è bellissimo guardate qua che sciccherina che sciccherina ma che belli questi glitter che ha dentro wow 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 è bellissima tic tic metti a fuoco metti a fuoco e andiamo adesso all'insù abbiamo il corpo o c'è su il reggiseno qui o magari la parte della sopra della sirena è tutto tipo glitterata vedete che storia ma solo il corpo o no anche la faccia ma come vestita come sei vestita allora qui c'è il suo robo ok 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 e poi qua c'è la giacchetta che si vedono le spalle un po' tutto pelosino blu bianco scintillante molto molto bella il braccio si muove così e poi abbiamo le mani sempre tutte glitterate con lo smalto argento mani molto pallettate ok mi piace molto il dettaglio di questa cosa qua non ho da questa manica staccata ma che invece è unita top 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 poi abbiamo la collana argento molto scioccosa con il fiocco di neve e poi gli orecchini argento e viola rotondi enormi giga enormi ora andiamo alla faccia e poi i capelli molto molto belli gli occhi tic 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 lilla il rossetto è bellissimo qualche cappellino bianco il rossetto di due colori ma che bella che è che bella perché avere le sopracciglia nere e non bianche non lo so però c'è dentro qualche lighina bianca quindi top veramente veramente incredibilmente bella ok ok le cigline che poi questa è comunque mj che fa anche le rainbow e le lol così quindi i capelli ebbè sono veramente morbidissimi c'è un pochino di gel qui c'è questa roba qua durissima ma noi dopo andremo a fare lo shampoo tanto che poi dobbiamo provarli anche la coda i capelli sono tutti bianchi e hanno anche un sacco di questi luccichini qui poi c'è la coda poi c'è la coda un po' normale poi devo capire un attimo come si muove questa signorina ma prima voglio vedere tutto gli occhiali da sole che non capisco perché c'è lì in testa andiamo subito alle vallie lì che tanto tipo con un codino non li ritengo su vediamoli rosa e argento molto molto perché non dillo forse per abbinarsi al giubbino ma io che ne so e poi in testa abbiamo penso due trecce questa coda qua è un po' da sistemare non è molto solida se vedete poi vedo cosa riesco a fare e ha due trecce che non si vedono molto bene e poi tutto questo robino qua su qua c'è un coso è un po' strano la sua pettinatura però devo dire che è molto molto bella allora il collo si muove così le braccia si muovono tutte anche la mano poi qua quanto pare come le sirene qui si muove leggermente avanti e indietro per fare il movimento della sirena e qua c'è la spaletta molto molto bene quindi ora dobbiamo farle lo shampoo però la testa non sta dritta vabbè sarà in posa ora shampoo perché devo andare a togliere in teoria i capelli delle rainbow eye quando ci sono i cosini qua poi tornano normali vediamo di questa se è la stessa o no e poi qua tutta questa parte qua è ingellata dobbiamo andare a togliere il gel e poi facciamo questa riga qui e poi mettiamo nell'acqua fredda questa parte qua vamos che chicchi allora ho pensato prima di fare lo shampoo passiamo direttamente alla fase coda cambia colore quindi accendiamo l'acqua fredda ok è fredda ok è fredda e ora ci mettiamo la coda che colori dovrebbe diventare non è mica capire questa roba a me sembra uguale non è mica capire questa roba a me sembra uguale a me sembra uguale che colore dovrebbe diventare la coda sentimi forse è più scureggiante perché sto bagnando i capelli non lo so forse è un'erba fredda vabbè non fa niente non fa niente lasciam perdere queste cose che non fanno per me molto bene ora comunque tanto che ci sono le ho tolto la coda ok così poi la rifaccio le faccio un bello shampoo ora e poi cerchiamo di metterla sullo stand e vedere un attimo la situation molto bene io non so come farla inquadrare non lo so come si fa a farla inquadrare tutta allora già pomettino si vede poco lì così eh già allora facciamo così alzo un pochino qua le ho rifatto la coda con i suoi codini molto bene i capelli bellissimi si sono tolte quelle onde dei plastichini quindi top 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 e sono così lunghi e così belli e poi le ho messo la gancino con la S in poche parole e poi tutta la sua codina così qua non ho ben capito se deve stare su probabilmente però poi mi scivola giù o semplicemente devo alzare ancora un po' di più però essendo che voglio farla vedere tutta cerchiamo di abbassarla un po' ok vediamo se così ce la facciamo ok più o meno più o meno alziamo ancora un titinin ok così si vede tutta poi dopo la sistema la metto bene sullo stand allora devo dire che è bellissima l'unica cosa che cambierei sono le mani che non mi convincono sembrano delle palette sono morbidose tutto ma non lo so sono un po' pallettose queste mani un po' troppo lunghe pallettose boh però per il tutto il resto comunque è veramente veramente meravigliosa meravigliosa fiume a te piace pomettino si è soddisfatto molto bene pomettino mi fa molto molto piacere perché è veramente molto bella quindi tocca voi fatemi sapere un po' e cosa ne pensate di Christa bella io sono super soddisfatta essendo la mia prima mermermermermermermer mermermermermermermermermermer quella roba lì ok molto difficile da dire molto difficile ancora di più da scrivere o comunque a parte gli scherzi io vi ricordo Instagram, link Amazon e Patreon giù dall'info box per chi volesse supportare me e Pomettino grazie, grazie mille, grazie mille a Martina che è abbonata mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate di questa donzella Pomettino direi che è giunto il momento di salutare bravo e niente, io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini ciao ciao ciao